Ciao a tutti sono Spiegano e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale Come vedete siamo su Techcraft, siamo alla puntata 22, si certo 20, 32, si siamo alla puntata 32, azzo palazzo cazzo Nell'ultima puntata abbiamo un po' come dire, messo in ordine la casa Dobbiamo finire questo, finiamo questo in un attimo perchè abbiamo, ho qualche altra cosa da fare Eh si per questa ho semplicemente intenzione di spostare i cavi, eh 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 ho visto bene Piano, piano Si vabbè però non ho voglia di salire su quindi facciamo così No perchè l'ho fatto, vabbè Sti gacchi, oh me ma Eh si Abbastanza brutto, certo Tanto ci servirà anche per qua Allora sip, sip, qua 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 Mi serve questo Eh o magari nope Allora si devo spostare semplicemente questi cavozzi Ci metto un secondo, lo faccio con voi Tanto ci vorrebbe, non ci dovrebbe volere troppo tempo Si devo momentaneamente rompere tutto Però così sono soltanto piccoli dettagli Ecco qua il metodo migliore per passarli Uno, due, tre, perfetto Così qua posso tipo chiudere Tipo Sì ok no, cosa mi serve, cosa mi serve, tu non mi servi più Eh loga 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 Vediamo un pochino Si sono un po' flippato come avrete notato Qua deve essere chiuso Qua absolutely deve essere chiuso da questo Yes E qua sotto vediamo un po' Si deve chiudere con lo stone No, no con la Ti odio Così più o meno Ah, già meglio Poi anche qua dovremmo risolvere questa piccola falla Dobbiamo portare i cavi di uno più indietro In modo da renderlo più carino Ho paura di usare la mano qui perché Ho visto che è leggermente potente E sapete Ok qua era totalmente inutile È totalmente inutile aprirlo Ciao Poi i cavetti dove sono e quelli qua Facciamo stare leggermente così Tac, 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 tac In modo da che qui si possa chiudere Anche qui e anche qui Ehm, si vede di meno diciamo Anche perché qua poi chiudo Ma non mi piace Fermi tutti Dove ho messo la mano? Eccola Eccola qui Ah si Prima di dimenticarmelo Come solito fare Volevo scusarmi per il casino della puntata numero 31 Perché c'è una parte in cui Ci sono diverse parti in cui sparisce il video E diventa tutto nero Per qualche secondo O anche qualche minuto in certi casi Ehm, mi dispiace Non lo so Sicuramente è un problema di rendering Ovviamente si Ehm, sicuramente è colpa mia Credo di aver trovato l'errore Ehm, il mio errore Perciò vabbè Non ci sono problemi Lo risolvo Cioè, in questo video Non dovrebbe succedere E incrociando le dita E conoscendomi succede Vabbè, dettagli Ehm, si Ok, andiamo fuori Che così Che palle Stranamente notte No, prima devo liberare l'inventario Prima di andare fuori Ehm, sip Allora Buttiamo questo Buttiamo questa Buttiamo E questo non l'ho ripiazzata Pazzo Dove la metto? Dove la metto? Allora, hai visto che era messa qui La mettiamo qui Di nuovo Direi Che in realtà era anche qua su Però non mi piace Sì, ho già deciso Ma dove cazzo l'ho messo Ecco Ho già deciso cosa farò Visto mi piace questo design Del tubo che arriva da sopra Lo metterò così Opla Ditemelo che è carinissimo Dovete dirmelo Sì, dai, è carino Ehm, sì Qua prima o poi ci metteremo il potenziamento Perché voglio che arrivino un pochino più lontano Vediamo Yes Perfetto Qui dovremmo aver rimesso tutto È molto più ordinato Come avrete notato È molto più carino Vedete, quello che stavo cercando Visto che era una Aata Pazzesca Qua sotto Non vedo perché dovrei Lasciare aperto Ok Perfetto È tutto così Ritirato Tranne qui Qui Non va bene questo Qua ci vorrebbero Gliston Bricks Anche qui in effetti Però vabbè stica Eh, sì Diciamo Ci vuotiamo l'inventario Possiamo anche utilizzare Questa Visto che non Dove sei? Sacchetto Sacchetto Eccoli qua Non so se lo sapete Ma sono tipo Cecco Quasi No, va bene Esageriamo Però Diciamo che non ci vedo Poi così tanto bene Qualtano può andare a fangala M Cable Ok Import No, di certo No, di certo Non ti riprendi Ok Sì, qua l'ho tolto Perché non mi piaceva Il fatto Cioè, questa cosa Devo levarla tutta In reality Per adesso Vabbè Visto che non lo stiamo usando Metto il crucible là dentro Poi Un giorno Si temerò Tutto Sì, lo metto qui Anche se mezzo di strove Mi verrebbe voglia di rifarla Visto che ho tanto Però per prima cosa Devo andare a vedere Come va La turtle La turtle Sì Anche se in realtà Non ho lasciato Sì sul server Quindi non posso aspettarmi niente Montagna dei tessiteri Dovevo mettere Una waypoint più Capite cosa intendo Sì, come al solito Lagga Perché sta caricando il mondo In effetti Anche la sua ragione La sua porca ragione Ok, smesso di lagare Grazie Beh, tra un po' Ricomincerà perché Deve caricare altri chunk Vabbè Quanto vi odio a voi Devi morire Da fastidio il tuo rumore Ecco Ah, sì E poi mi avete Mi ha consigliato Sirbo98 Conoscete già Di abbassare il volume Quando arrivo qui Perché Dice che si sente troppo E ha ragione effettivamente Quindi Andiamo verso la turtle Vediamo come è messa Quanto ha scavato Se ha scavato Perché a questo punto Non mi fido più Sì, grazie per l'uovo Però Ecco Eh, sì Devo solo trovare la turtle Allora Cosa che potrebbe sembrare Semplice Ma non lo è assolutamente Beh, in realtà sì Ma porca Ce l'ho visto bene The fuck Dove? Dove? Che bastarda Ma sei una bastarda Dove recuperare quella Eh, sì E come ti può fare Ok, vediamo se si può fare Un server Ok, ho preso quello che devo prendere Ora devo semplicemente fuggire Perché Merda No 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 Absolutely no Sì, io lo so che ho abbandonato il quarzo Ma Purtroppo Tu mi servi Quindi aveva già scaricato, no? Ho dovuto Ho dovuto fare una specie di Torretta Fatta di Melman No, scherzo No, però io quel quarzo Non lo posso abbandonare Mi dispiace No, no, no Sto per cadere Sono sicuro che Se vado piano ce la faccio Aiuto No Porca di quella Zoccola No, no Scusate Mi permetterete di mettermi Di mettermi In game mode 1 Perché No Non lo accetto Rivolgo la mia roba subito Subito Sì, sono molto bravo in combattimento come avete notato Cioè, no Mi spaventa un po' Bastardi Bastardi Dai, 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 dai Prima che disponi tutto Perché un piccone? Un libro di casa Ha una durabilità? Ha una durabilità? Vedo che ci sia Spero di non aver perso niente Cioè, fatemi controllare Che cosa sei? Pantaloni Questo Questo And questo Tutta questa roba è tutta Di quelli stronzi Sì, vabbè Questo non mi serve di certo Poi, cos'altro posso buttare? Casa durabilità 2 su 10 Ma da quando in quando ha durabilità? E sto pure laggando come un porco maniaco maiale Perfetto Cos'erano le meraviglie? Lo lasciamo però Torniamo a casa Subito Mi serve il libro Ah, bello qui Bello Perfetto Mi ricompongo e arrivo subito Eccomi qua Allora Dicevamo Allora, mi sono rimasto da Cosa Adesso mi vuoto un po' l'inventario Ho anche dormito Come al solito Era notte Cold bone Wheat Quarzo Quarzo Rotten plush Chunk lo other Cooked fish No Cobblestone Dirt String Gold nugget Sì, impressionante Danni gold nugget Are you fucking Gli aspirati Aspirati i gold nugget Vabbè, sì In realtà Le ho detto io Di farlo Shhh Allora, questa E vediamo Di non dimenticarci La metto nella cesta elettronica Così Così la trovo Benissimo Mettiamo tutto qui Mettiamo Questa storia Gli strumenti Eh, sì Mi sono indicato Di mettere questo Qui And Qualcos'altro Nope Poi non ho capito perché Il libro del teletrasporto Ha durabilità 2 su 10 Non capisco Quasi quasi lo butto Non mi piace Mi piace un altro Cioè non costa niente Non mi piace Che abbia le durabilità Non so Poi lo dico Intralinking Ehm, following E basta Vediamo Yes Allora, allora, allora Cosa stavamo facendo Prima di andare a controllare La bastardissima tartare Ah, innanzitutto Devo controllare una cosa Visto che si è scaricata Probabilmente ha messo Della melma Qui dentro Non sembra che ci sia Qualcosa di strano A parte un po' di vingolo Va bozzo Va bozzo Va bozzo Qui abbiamo finito tutto Benissimo Allora Prima di tutto Voglio fare Una Qualcosa che mi permetta Di aumentare Le raggi di azione Della Wireless Coso Perciò adesso mi informo Ehm 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 E niente Mi informo Ci vediamo frappè Benissimo Allora si chiama Boster Se non ho capito male Eccolo qui E' questo Dovrebbe essere semplicissimo Infatti è semplicissimo Da craftare E aggiunge due blocchi Di Ehm Due blocchi in più Di range Ehm Per un massimo Ne possiamo mettere Per un massimo Di 16 Quindi ci aumenterà Massimo 32 blocchi Perché ogni Ogni wireless Boster Ehm Aumenta di due blocchi La Il range Ora Noi facciamo subito questo Perché sembra interessante Quindi due Ah Quarzo Redstone Due iron Quarzo Redstone And Due iron Poi ne metteremo anche un po' sparsi Per la mappa Perché Merda Ne ho fatti troppi Ok Vediamo un pochino Allora Dobbiamo mettere Credo qua dentro Aspetta che Arriviamo Entro il volume Vediamo qua dentro Opla Vediamo un pochino Oddio Andiamo in un posto Dove di solito Non arriva Il range Non so Qui Perfetto Oppure sono Qui Perfetto Vediamo sino dove arriva Qua si Qua si Ok Finisce Ok Nel blocco Dell'albero Finisce Più o meno Quindi un bel range In realtà Ok Si Prende un bel po' di range Perfetto Un'altra cosa è fatta Eh Fattissima Come al solito No basta No Eh Si Avrei intenzione Di 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 Iniziare un nuovo progetto Un progetto abbastanza ampio Eh Che sarebbe quello Della farm di vacche Solo che non so se farlo In questo momento In questa puntata Perché Si tratta appunto Di un progetto abbastanza ampio Quindi mi sa Che lo faccio Nella prossima puntata E oggi iniziamo Un altro progetto Il progetto è Le cookie oven Fournese Le cookie oven Fournese Eh Sono queste Sono dei multi block Eh Adesso non mi ricordo Come si fanno Sì Sono molto semplici Da fare Ok Eh Dicevo Sono multi block Ci servono 27 blocchi Di queste Mettendoci del coal Oppure del legno Se non sbaglio Ci restituisce il coal cook Che ci da tipo Quasi il doppio Della potenza Di un legno stesso Quindi in realtà Ci conviene moltissimo Ora noi Craftiamo subito Questi blocchi Che dovranno essere Abbastanza semplici Anche se in realtà Non abbiamo sabbia C'è qualcosa Per creare la sabbia A parte la minimum stone È vero Pulverizzando Ha giudicato Ha giudicato Cobblestone Un bel po' di cobble Pulverizer Pulverizer Ci abbiamo pulverizer Sì Diciamo Tutto ciò che faccio Deve uscire da qui Ok Ci mettiamo Cobblestone Ah bello In realtà Dovremmo mettere Molta di più Però non fa niente Per adesso Ci arrangiamo così Quindi dicevo Sono 27 blocchi Se non erro Quindi 5 send Sì Se magari riesco A scriverle In ordine adatto Send End End Brick Fatto bene A prenderle Ah ma ne abbiamo Perché ne abbiamo Ah sì sì La fornace Come si chiama Più o meno questa Alloy fornace Oh l'avrò fatti molti Send Stai salendo Stai salendo Stai salendo Fammi controllare Sì qui sembra che stia cuocendo però Ho visto E i phishing Il phishing Come sta andando 465 Mi sa che si è fermato di nuovo Va bene Vediamo un pochino Vediamo se sta arrivando Un po' di send Si sta arrivando Molto lentamente Perciò nel frattempo Che arriva la send Andiamo a controllare Se sta funzionando Smetti la porta Si sta funzionando Per la cronaca Questo portale Si è ricreato Perché l'ho utilizzato Per tornare a casa Quando sono morto Prima Stai funzionando No non volevo cliccare Vediamo se ce la faccio Yes Idol And then Non sta funzionando Ma fa chiù Devo trovare un altro metodo Questa roba è tutta da smontare Alla fine Ma credo che sia più che altro Perché Cioè Tipo È un po' realistico E quindi dice Dopo un pochino Non puoi più pescare Sarebbe troppo semplice In realtà Vabbè Anche ragione Send Dimmi che è arrivato Un po' di send Ho capito Alla dobbiamo prendere a mano Anche oggi Anche oggi Basta Devo prendere un sacco di send Faremo una farm di send Una farm automatica Anzi Magari la farm La possiamo basare Sulla cobblestone Cioè Si crea la cobblestone Poi automaticamente Va in un pulverizer Che automaticamente Questa è il buco di una Sì Era di beach Era di beach Che poi automaticamente Lo Come si dice Ah ecco Una spiegia Perfetto Lo pulverizza Come si suol dire Vediamo un blocco Ecco Questo non è necessario Lo pulverizza Lo trasforma In Sabbia E sarebbe completamente Automatica Sì Si smettila Però mouse Ok come avrete Ho preso Un po' di sabbia Oddio Ci sono tipo I mostri Indemoniati Ah è vero che non sono più Oddio 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 Dev' andare a casa Dev' andare a casa Dev' andare a casa E aspetta Ma perché sono così Deficientor Allora Vediamo un pochino Send Perfetto Ora abbiamo un pochino di più Alla fine ho fatto prima A prenderla a mano Si mouse però Non puoi sbattere nella tastiera E rompermi Gli sbarabbiamo Aspettate che ho il tappetino Spostato Non chiedetemi il perché Il mega tappetino Sottolinei Iron Sand Sand Dirt Wall Cobb Stone Coal Egg Altro Bone Andaro Perfetto Ora Continuiamo a fare Il crafting Probabilmente ora finiranno i brick Ma sono dettagli Ecco appunto Brick Si possono trasformare questi in brick normali Yes Non ci basteranno lo stesso Però Almeno c'è qualcosa in più E invece si Allora non ho ancora deciso dove fare Farla ma credo qua sotto Anche se non è troppo Estetica la cosa Però vabbè Come sapete Ecco qui Credo sia impossibile Quante altre? No è 3x3 Non serve In realtà abbiamo fatto un blocco in più Perché quello centrale se non sbaglio deve stare vuoto Vediamo se ricordo bene Ole Eccola qui Questa è la nostra fornace Sì però la volevo più centrale Angolare non mi piace No non mi piace Si spacca come un normale blocco naturalmente Ed è tutto così bello Tra nel fatto che ho fatto un blocco in più Questo naturalmente è solo un test Perché se funziona veramente ne faccio Molte Molte di più Di una Quindi Quindi 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 Quindi Per la cronaca Credo che farò così Perfetto in modo tale da avere L'ingresso sia di fianco che davanti Credetemi ci servirà Poi vi spiego Allora vediamo un pochino Se ricordo bene E se ricordo bene siamo a cavallo Come si suol dire Accetta anche gli oak Wood Vediamo un po' Yes Ricordo anche i modificati Modificati parliamo Così non credo Non mi ricordo sinceramente No Mentre questi si Perfetto Questo tipo di fornace è molto molto lenta Però Credetemi Ci da tanti risultati Infatti ci da oltre al Qualcook Che sarebbe questo Non so se significa Cookiven o Cookhoven Vabbè Diro Cookhoven Per correttezza Oltre a darci il Qualcook Che tra l'altro Cuoce per 16k 16.000 EU Per tick 10U per tick Scusate 10U per tick Che sarebbero 16.000 EU Un solo coso Oppure dice 16.000 EU Diciamo che In realtà Qualcosina la produce No basta Si capisce che produce un sacco E in più Ci da un liquido Questo qui Che tipo Si do No Che cosa dico Ma che cosa Creosite oil Una cosa del genere Aspettate Vediamo un po' Creosote Creosote oil Che può essere Utilizzato per creare Altra energia Voglio dire Cioè Sottolineo Scusate un attimo Che mi è arrivato un messaggio Eccomi qua Allora dicevo Si che faremo questo Ehm Vabbè Noi a prescindere La rendiamo automatica Subito Come se niente fosse Gli servono ME Fa più Lo Allora ME Cable And ME Export Bus And ME Import Bus Ehm Dovremmo passare questo Da qui a qui Ebbene si Anche se credo che Oddio Che casino Credo che ci servirà Fare Allora vediamo un pochino Come si chiamano Che non mi viene in mente Il nome Ehm Credo che sia Non ti vedo Non ti vedo Eccolo Però è un casino No in realtà no Ehm Questo Ehm E' molto interessante Perché Ehm Emette un segnale redstone Noi diciamo per esempio Emetti un segnale redstone Quando Ehm Questo oggetto Supera I 64 64 Blocchi Tipo nell'impianto Ci sono 63 Blocchi di Cobblestone Quando arriva 64 Emetti un coso di redstone In modo tale che smetta Di arrivare dentro Della cobbestone Ecco Poi li diciamo A un eventuale import Che è messo a fianco Ehm Passa Fai passare la roba Soltanto quando L'impulso di redstone E' spento E in questo modo Quando l'impulso di redstone Si accende Ehm L'import Smetterà di Di Importare Cobblestone Nell'impianto Nell'esempio E' cobblestone Smetterà di Importare Cobblestone E non ci Riempirà l'impianto Di merda Ecco E questo è quello Che voglio fare E tutto ciò Perché Voglio esportarla qui Esatto Però Una domanda Mi sorge spontanea Si occhiavava da sotto La risposta è sì Lo vedo dal coso Dei Fischer Io lo chiamo Fischer Ma in realtà Si chiama Fischer Però Scusate Urla come al solito Allora Dicevo 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 Qui possiamo sfondare Ecco Vediamo un pochino Come si può fare Qua devo sfondare Per forza Sì Si può fare Tac Tac E magari Non così Sì Così Potrebbe risultare Un pochino Bruttino Ma Così Giusto per dire Vabbè Risolveremo in seguito Qua fuori Tra l'ho risolto qui Si Ha risolto Le mie tecniche Sono il Maximus Eh si Devo dire All'impianto Importa Io sono l'impianto Devo importare Si Faccio sempre questo Discorso Stacks of items Non always active Bensì Bensì Devi dire Attiva soltanto Quando non c'è un segnale Quando c'è un segnale Devi fermarti Subitissimo Si E questo lì Da And And Iniziamo a fare Il level emitter Come si chiama Insomma Quella storia là Cosa l'emitter Level emitter Quindi devo fare Un basic processor Ne avevamo Oh Fermi tutti È una rapina Pina Ok Una redstone torch Mi sono già dimenticato Il crafting E makeable Mamma mia Ne abbiamo pochi Mamma mia And Due iron Minime No basta Due iron Level emitter Level 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 Emitter Lo mettiamo Circa qui Si Magari Tipo girato Ecco Lo dobbiamo collegare Con un tubo Il che sarà un pochino Antiestetico Però Però Ehi Non possiamo pretendere Troppo Ecco Ecco Si scatta sulla fascia Ed è goal Non basta Magari lo possiamo collegare così Sac E a lui le dico Quando ci sono 64 Pezzi di Cobblestone Tu Emetti Un Merdoso Ciccioc Capito? Vediamo un po' come è visibile da su Da su In tal caso metto qualcosa Si qua è ovvio Devo mettere qualcosa Tipo sposto questa crafting La metto qua Poi sposto questa La metto qui Sembrerà fatto apposta La mia esteticità al massimo Della potenza Si La potenza Fatemi pensare Buonasera Ma è perfetto Et voilà Sac Eh io sono L'impianto Devo Esportare La roba qui Peccato che qua Mi ha messo Cobblestone Ma doveva essere legno Vabbè Dettagli Legno E quale dico Tizio Dammi del legno A stack Grazie Come vedete funziona Naturalmente Perché l'ho fatto io Si Si Funziona più o meno Come la farm di String Dai perché mi devo sempre Offendere da solo Stone Proviamo a fare di nuovo Le cose come stavano Cioè Tipo così And anche qui Tipo così Piano E la potenza Come si suol dire Eh mi sa che questo Lo faccio di stone Così tanto per Facciamo tutto questo No Qua non si vede Quindi Vabbè in realtà Si un pochino Perché Sono grandi Quanto un blocco Sti Merdosi Allora Rimettiamo il cavetto Dove sei Tutto questo L'ho fatto Per farlo Rifornire automaticamente Di legno Ma non solo Perché in realtà Dovrebbe automaticamente Anche prenderlo da qui No Vedete Se io scrivo Wood Walkwood Non ce n'è Perché non ce n'è Perché non ho detto Cosa deve prendere Devi prendere la wood A stack Grazie Senti Non so se hai capito Cosa ti ho detto Forse sia un po' tardo Qui come ho fatto Per estrapolare Tutto quello che entrava Un import bus Senza nessuna Indicazione Qui Non è che ho smesso Un export tipo Così a cazzo Per dire Import bus Senza niente Quando non c'è segnale attivo Move stacks of items Sei collegato? Evidentemente no Non l'avevo collegato Ma allora sono un pirlone Ok Ehm sì Facciamo così Così Qua rimettiamo I stone bricks Opla Qua rimettiamo Qua ci vuole Il basalt Questo lo spostiamo Di un blocco Questa la sportiamo La sportiamo La spostiamo Di un blocco E opla Tutto nascosto Tutto perfetto Andiamo un po' Ok 189 Cosa non ti chiedo Di accenditi Quando ce ne sono Ah ok Sì Ok Però Non deve proprio entrare Così tanto Capisci Ah perché sono un pirlozzo Sono un pirlozzo Forse le devo dire Che Facciamo che le dico No 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 Assolutamente Quando ce ne sono più di 14 Adesso Fammi rimettere tutti qua Ok E ci toccherà anche Reazionare la cosa Ma perché 14 Qui va da 192 Per te scusa A 1 Quando ce ne è più di 1 No non volevo prendere te Volevo prendere te 128 34 Zacc Vediamo un po' Quando ne prende 60 Cioè 192 Va bene Accetto Va benissimo L'importante è che non ne prendi più di quello E' perfetto Abbiamo fatto Anche oggi Della nostra azione quotidiana Mi scarico un po' di questa roba 1 2 3 4 Facciamo così Ora dobbiamo mettere L'import bus Perché Deve anche estrapolare La roba che fa Fa il cerco Sono un cogliote Fa il cerco Però ci serve Il creosote oil Vi spiego Non fa il cook Il cook Oddio Cosa sto dicendo Non fa Il cook Cook Scritto così Il coal cook Come cavolo si chiama Ma fa il charchoal Perché? Perché è fatto con legno Questo che sto facendo io Lo sto facendo con lockwood E ci dà questo La domanda in realtà interessa Il creosote oil Questo ci interessa secondariamente Perciò tutto va bene Ok Ora dobbiamo semplicemente mettere Semplicemente Per modo di dire Perché in realtà di semplice Non c'è proprio Dove ti trovi tu Eccoti Sì Non credo esattamente Che ci bastino tre tubi Però Ci ho provato No Allora Devo fare Assolutamente Il cosa automatico Anche di questo Allora Ci serve il quartz Che stiamo Tra l'altro Anche per finire Perché Glass Di sabbia Non avrò più problemi Per un pochino Facciamo Molti Ah Pensavo di aver finito Il quarzo Anche se in realtà L'avrò finito Non Non de dubito Ecco appunto Resto Va bene 38 Devo rifare anche Import Ed export Bus Perché È palloso Farle ogni volta Così a cazzo Voglio averne in più Benissimo Andiamo qui Naturalmente All'anno Non me lo farà Mai piazzare Perché È stronzo E se me lo facessimo Arrivare da qui No Non da qui Non da qui Ma da qui Da qui Da qui E qua Riempiamo di Questo Sì magari Facciamo Non mi vedrai dove devo passare Perfetto Sono nel blocco di dato Yes Oh yeah A seconda la persona Mettiamo un import bus Ops Le diciamo di prendere Quello che deve prendere A stack Grazie E ci prendere Tutto quello che produce Ok quindi Noi produciamo Creosoteoil Che adesso Andremo a mettere In un tank In un tank di vetro Così a cacchio E il tank di vetro Si fa col glass Non l'avreste mai detto Peccato che non ci basta Quindi ci serve un po' di Sabbia Sabbia si dice Send Oh siamo senza send No non è vero Basta Anche se in realtà Finisce subito Però vabbè Tac Cuocire in modo Abbastanza svelto Grazie Nel tanto che fa questo Abbiamo da fare Un altro paio di cosette Per esempio Mi interesserebbe fare un charge E notte naturalmente Un charge pad Il charge pad Semplicemente È una specie di cosa Sembrerebbe Guardandola una Una pedana Come si chiama Come ti chiami tu Guarda Pressure plate Sembrerebbe una pressure plate Infatti La pressure plate È un ingrediente del crafting Ma non lo è Serve a darti l'allegria Come si No basta Quando ci si Come dice Quando ci si Passa sopra Si viene ricaricati Della energia elettrica In tutti gli oggetti elettrici Che abbiamo addosso Per esempio La mano L'armatura E ho intenzione di farlo In questa puntata naturalmente Perché Perché sì Sì Magari se ci metto un tubetto Sai com'è Ehm Sì Liquid Dact Ma pensavo di averlo finito Sinceramente Ho un po' L'ansia Per queste cose Perché So quanto ci vuole A farli Porcaccia Ehm Ah già Bisogna fare così And Prende E tu cosa staresti? Servo motor Vediamo un po' se mi ricordo Olè Come vedete si riempie Ora vado a prendere un po' più di glass Così lo alzo un pochino Quello è un E' un E' un E' un Tank Normale E' semplicissimo da craftare Ma è comodissimo Nello stesso tempo Perché Ci permette di Conservare i liquidi In modo abbastanza efficace E' soprattutto comodo Ehm Commodore 64 Ah 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 Naturalmente ci metteremo una vita A riempirlo Perché comunque Ne produce abbastanza Pochino Però è interessante Come ci crea il charcotro Credo che lascerò il server E' acceso un bel po' Yep Nel frattempo Creiamo quello di cui vi ho parlato prima Il charge Pad Creiamo quello intermedio Perché L'altro è troppo Troppo MFSU Ma siamo matti MF Energy Crystal Che si chiamano con la redstone Oh my god Abbiamo poco redstone Ce ne servono Quattro Azzo Non ci bastano Mi sa 32 ce ne serve Invece ci basta Come Ci basta per poco Ma ci basta Sono sicuro che abbiamo De diamanti Sono sicuro che abbiamo Gold Ci viene una minimum stone Ah S'ho buttato un sacco di minimum Ma che faccio? Ma che faccio? Non lo posso fare qui Per questo ho messo una Project table Perfetto Facciamo questo qui Questo qui Un, due, tre, quattro La redstone la mettiamo a posto Dobbiamo andare subito A prendere la redstone Dopo Da fare però Infatti Rubber mi ricordo che l'ho raccolta da poco Non puoi dirmi Infatti Non puoi dirmi che non ce n'è perché Ti giuro che mi cazzo Quindi Un, due, tre, quattro Iron, no Block Ok Ok One Two Three And four Mf Ok Poi l'mf Eletric Che palle Però copper cable Ne dovremmo Oh si ti amo Spieghiamo un totto Sono preventivamente figo Non so neanche io cosa ho detto Però più o meno mi son capito Refined iron Perché Ogni volta Preventivamente creo delle cose in più In modo tale che dico Vabbè Visto che sono così rompipalle Facciamo adesso Così poi magari Se ci serve un'altra volta Ce l'ho già E ho fatto bene Ho fatto benissimo Merda Cosa ci voleva? Pressure plate Eh si vabbè Stone Stone Ah ce l'ho addosso Spero che vada bene anche l'altra gomma Spero Perché io Di quella rubber Merdosa Non ne ho Effettivamente Ma credo che vada bene lo stesso Ti prego Quanto ti odio Mi serve un po' di orca Cioè io ora devo andare A prendere la Cosa con il tritup Il tritup Per la crona Che è questo Uno strumento Con pochi usi Pochi utilizzi Nel senso che tipo Dopo quattro volte che lo si usa E si è già rotto E serve a prendere la gomma Degli alberi di gomma Della Industrial Craft Per la crona Care gli alberi Della gomma Della Industrial Craft Eccomi qua scusate Dopo che mia sorella mi ha fatto scendere Tipo un Un ictus E non sto esagerando Allora Dicevo Troviamo un albero Dell'Industrial Craft Per far Ti odio pollo Neanche un albero Dell'Industrial Craft Ne ho visti molti Nella 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 Twilight Però Nella Twilight Non ci voglio andare Che palle Cioè c'è un albero Dell'Industrial Craft No Perché Ma perché Ma io dico Perché li fanno così rari La risposta È questa Perché sono bastardi Sono bastardi In un'altra parte dell'isola La risposta è E sto lagando Sto lagando Ok credo che ho smesso Credo che sia lo spawner È il problema Ok vogliamo un pochino Vola Spiga 98 volte Ne ho visto uno È inutile che lo negate Sì vabbè qua si lagga Come dei porchi Lo so benissimo Però ne ho visto uno Eccolo qui Tu sei un albero Dell'Industrial Craft Con la gomma spero Dove sei? Gomma? Gomma? La gomma si riconosce Perché sono tipo Di pallini Possono essere In ogni lato dell'albero Ti sto odiando Ok Eccoli Eccoli Uno e due Sei Ce l'ho fatta La mia missione è completata Houston Non abbiamo un problema Perfetto Mettiamo a cuocere subito Questa gomma Che va cotta Purtroppo C'è anche un Un macchinario Che si permette Di averne Sei Sei pezzi di gomma Da ognuno Però Troppo lungo da fare Vediamo un po' Sta funzionando Qui c'è Del Creosote Oil Il nome Da dove l'hanno tolto Rubber Mi serve subito Rubber Eccola qui Questa nera One and two Crystallizer Crystallizer Scusate Credo che Stia bene L'entrata Però Credo anche Che lo metterò qui Perché è più comodo Come credo anche Che Che cos'è questo cavo Già 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 Ora ricordo Ricordo anche Che che palle Perché l'ho messa qui Credo che lo metterò qui E credo che sia una buona idea E credo Credo anche Correggetemi Se sbaglio Che l'uscita la metterò verso giù Perché mi sono rotto Gli goglioni Opla Vorrà dire Che questi tubi Li faccio entrare dal lato Si so che sto facendo Dei giri contorti Però Ehi I'm speaking 98 Che smettiamo Sip Allora Qua mi sale della stone Subito Subito No dico subito Della stion Stone And other stone Stone And stone And stone And La c'è il pavimento Quindi stone Si ti ho detto di mettere stone Questi bug di merda Li odio Vabbè Allora l'idea è questa Potrei innanzitutto far uscire questi cavozi Da dietro O magari no Però potrei farli uscire da qui E poi farli salire E poi farli salire tipo Di due Dove si trova la cosa Benissimo Benissimo Proprio impazzire Ti amo Non è vero Smettila di cadere Sabbia Vabbè Vabbè Poi ci aggiustero Prima o poi Tac Tutto questo Per non rovinare troppo l'estetica Visto che già l'ho rovinata Un bel po' di volte In realtà fa cacare Era molto meglio come la prima Sinceramente Però Mi vedo costretto a farlo Perché il piano di su vale più Del piano di giù O no La risposta è sì Vale più del piano di su E come la risposta per qui è No Non ci sto C'è nulla lassù? Naturalmente sì Lo risolveremo più avanti perché Qua voglio metterci un blocco Ok Poi qua Faccio così Tac Ti odio Sì Mi vedete un po' incasinato E avete ragione Perché sono incasinato Non è troppa la comodità Devo dire la verità Ti odio per un cavo di Diamond Venite a me subito Gold Minimstone Alla mano Vediamo il diamond C'è nemmeno un paio Non mi ricordo come era il crafting Mi ricordo che c'era tipo il glass Però Redstone può essere Oh Mel Ma Dimmi che è così No No Ma porca lo Già Devo andare in quel modo infernale No Benissimo Chiudiamo la puntata Io sono Spiegan98 Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Mi trovate sempre su twitter Su google Su facebook E sul mio sito Spiegan98.x10.mx Naturalmente su facebook Mi trovate sempre Cercando facebook.com Slash Spiegan98 Ufficiale Oppure cercandomi nella barra Delle ricerche Io sono Spiegan98 Il video è finito Ciao a tutti Ciao Ciao